Questo video è stato prodotto da Elvega, Riccardo Zigarini, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi, Elia Morini, Luca Gemignani e Daniele Sozzi. Fantasmi di H.P. Lovecraft. Lettura di libri in pillole. Illustrazione di Eros Veschi. Era l'ora innominabile della notte, in cui le illusioni in un nembo delirante intorno al silenzioso dormiente ondeggiano e si muovono furtive nelle sue visioni inconsce, quando il corpo sul suo letto terreno si stende come un cadavere disabitato, privo dell'anima, che vola libera in mondi ignoti agli occhi della veglia. La falce di luna strisciava con grazia spettrale al di sopra dell'aguglia e ai palli di raggi sofferenti ghignavo ricordi di antichi sogni. In alto, nel cielo, ogni stella guizzava fantastica e maligna, mentre voci dagli abissi mi invitavano a lenire i miei dolori nel sonno. Questa scena di una notte di un gelido novembre la ricorderò per molti anni. Sotto un'altra luna spiavo una distesa brulla esterile, su cui strisciavano scure ombre spettrali, sui tumuli della brughiera dove cose morte dormivano. La luna invitante giocava a esangue su forme insolite e malfatte, forme aeree di strani domini, portate qui e lì su ali che svolazzavano alla febbrile ricerca di una lontana terra di luce e pace. In quella oscura calca il mio sguardo distinse esseri di tutti gli spazi eterei, un caos senziente si era raccolto da tutte le sfere immemorabili, ma con un solo fine, un solo ardore. Trovare il fantasma chiamato vita. La luce tenebrosa, occhio di demone, ebbra, ammiccava nel cielo e volava sulla pianura trascinando il mio spirito nella sua scia. Vidi una montagna, coronata di città popolose e grandi, i cui abitanti innumerevoli si nascondevano nelle profondità del sonno notturno, cosicché la luna per lunghe ore oscure sogguardava strade solitarie e torri silenziose. Indicibilmente bella, la montagna si ergeva con ai suoi piedi un bosco. Su un fianco un ruscello scintillante scorreva danzando nella luce spettrale. Ciascuna città che ne adornava la cima pareva ansiosa di superare le altre. Colonne, cupole e templi splendevano ricchi e belli sull'altipiano, e ora la luna era immobile nel cielo, come se non avesse più cattivi presagi, perché le folle aeree sapevano che la vita era finalmente visibile, che la bella montagna ciascuno vedeva, era la vita, il fantasma da lungo cercato. Ma guarda, quali raggi illuminano la scena quando l'alba si insinua nell'oscurità? Ad oriente c'è un orribile chiarore di luce sanguigna, un bagliore accecante, mentre grigia e spettrale la montagna si erge e il terrore che la circonda tocca la terra. Il bosco maledetto di alberi contorti protende orrendi artigli al vento, e lungo il pendio lo stillante ruscello riflette il giorno con splendore abbagliante. In cima la luce della conoscenza striscia, macchiando le mura sgretolate della città, tra le quali si contorcono masse laide, difeti, delucertole e vermi. Mentre il marmo lebroso alla luce mostra sculture che disgustano e spaventano, e molti templi alludono al peccato e all'impietà che regnano all'interno. Oh, poteri della luce e dello spazio! La vita è carica di simili immondi orrori! Non celare più il miserabile disegno, ma rivela la gloria vivente, uomo! Ora, per le strade le case vomitano una disgustosa pestilenza, una folla di cose a cui non posso, non oso, dare un nome. Così abbietta è la loro forma, così nera la loro vergogna, e nel cielo il sole maligno ride della rovina che ha creato, e non ha pietà delle vaghe forme che fuggono verso la notte eterna. Oh, landa della morte, segnata dai tumuli e illuminata dalla luna, riprendi il tuo dominio! Il tuo respiro letale è un balsamo elisio per l'anima che vede la luce e sa tutto. Io cercavo di raggiungere il corteo alato che ritornava nell'oscurità, ma l'orrore, corrodendomi la mente, trattenne i miei passi vacillanti. Io, in sogno, sarei volentieri sfuggito al giorno. Troppo tardi. Ormai avevo perso la strada.